E dove si trovava quando un ragazzo qui è scivolato battendo il viso? Come stavo? Come stavo? Stavo in a cucinare. Eh? Stavo in a cucinare. Nella doccia. Pure lei? Cazzo! Eh? Eh, no, mi fa male, mi fa male. Sì, stavo a fare la doccia. Ah, insomma, voi due stavate insieme nella cabina della doccia? Sì. Stavo a fare la doccia insieme? Guardi, scusi, no? È che a casa mia lo schialto a bagno è piccolo e l'acqua calda dura poco. Allora, guarda, come è lui, abbiamo detto vabbè. Infatti. Poi dopo, quando sono uscito dalla doccia per primo, ho messo un piede in fallo e sono andato lungo. Anzi, fortuna non c'è stava lui. Vabbè. Fammi capire. Ma che sono gay questi? Ammazza. E che ne vedi?